giocare più la scioglione, più la scioglione, più la scioglione, più la scioglione stiamo larghi, cerchiamo di tenere la palla e giochiamo per terra per terra quando la palla è alta, la mettiamo in terra e scioglione per terra parla a terra l'unica cosa che dobbiamo fare noi è sdonare non guarda l'altro, non guarda l'altro, non lo dobbiamo fare adesso tu devi stare più vicina a rubina si ma comunque stanno da parte stai più vicina a rubina adesso, sei più vicina a rubina adesso c'entro a cambi Michi adesso abbiamo fatto molto più anche qua prendiamo palla, prendiamo palla quando attraverso, cerchiamo là e rubì in avanti eh? al centro campo ragazzi la partita, secondo me, non è giusta non è chiusa, assolutamente proprio non ci colpiamo su QD a 0 perché dopo QD a 0 vediamo 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 la procedazione qui nel pog